Omelia mercoledì delle ceneri annoci. Ritornate a me con tutto il cuore. È iniziata la quaresima. Questo tempo che dura 40 giorni è il tempo favorevole per la nostra conversione. Per prepararci nel modo migliore alla celebrazione della Pasqua. Le letture ci offrono diversi spunti di meditazione. La prima lettura ci invita a una profonda conversione. Il Signore così ci dice per bocca del profeta Gioele. Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore, vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso. Dobbiamo convertirci e dobbiamo pregare per la conversione dei nostri fratelli. Infatti, poco più avanti, il profeta così scrive. Tra il vestibolo e l'altare piangono i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano. Perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità all'udibrio e alla decisione delle genti. Tutti noi, certamente, abbiamo bisogno di conversione. Ma non possiamo disinteressarci di tanti nostri fratelli e sorelle che vivono come se Dio non esistesse e vanno verso la loro perdizione. Per loro dobbiamo innalzare continuamente le nostre preghiere. Come i sacerdoti di cui parla Gioele, e implorare per tutti misericordia. Cogliamo l'invito di San Paolo Apostolo che così ci dice. Lasciatevi riconciliare con Dio. Ci riconcilieremo con Dio ogni volta che ci accosteremo al sacramento o al sacramento della confessione che è l'incontro tra la misericordia di Dio e l'umiltà dell'uomo pentito. Prepariamoci con cura a questo incontro. Con un buon esame di coscienza. Con vivo dolore, fermo proposito tra la misericordia di Dio e l'umiltà dell'uomo pentito. Prepariamoci con cura a questo incontro. Con un buon esame di coscienza. Con vivo dolore, fermo proposito e una accusa sincera di tutti i nostri peccati. Infine il Vangelo ci dà tre preziosi insegnamenti. Il primo riguarda la preghiera. Una preghiera fatta con il cuore, una preghiera che deve diventare un dialogo d'amore con Dio. Gesù, infatti, dice. Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto. E il Padre tuo, che è nel segreto, ti ricompenserà. Il secondo insegnamento si riferisce all'elemosina. Ovvero alla carità fraterna che riveste tante forme diverse. Gesù ci insegna a praticare queste opere di misericordia non per essere lodati dagli uomini. Ma unicamente per fare del bene. Riguardo a quelli che fanno del bene per essere approvati dagli altri, Gesù dice. Hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Il terzo insegnamento è quello del digiuno. Il digiuno è una forma di penitenza che in questa quaresima non dovrà mancare. Digiunare significa togliere qualcosa dalla nostra tavola per darla a che non ne ha. In senso ampio significa rendere più sobria la nostra vita. Eliminando sprechi e spese inutili, per favorire la preghiera e la carità fraterna. Se la nostra preghiera sarà accompagnata dall'elemosina e dal digiuno. Diverrà molto potente presso il cuore di Gesù e ci otterrà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Noi e i nostri cari.